Beatrice, oggi è un giorno importante, il giorno in cui arriva il tuo rinuovo fino al 2025 con questi colori. Ti chiedo se ci descrivi le emozioni e le sensazioni di questo momento. Sono molto orgogliosa e molto felice di poter continuare fino al 2025 con questo club. Vesti colori ormai da tantissimo tempo, sono passate tante partite, diversi gol e immaginiamo anche tante soddisfazioni per te. Sì, tante soddisfazioni, però vivo il momento e credo che continuando così riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni. Sono tanti, ma immagino che non sia semplicissimo per te rispondere. Se dovessi scegliere un momento in particolare del tuo percorso in Erazzurro fino adesso, quale sceglieresti? Il più recente, il gol alla Juve, quello penso che non lo ricorderò. Sei cresciuta molto sia dal punto di vista tecnico che sotto l'aspetto personale. Quali sono ora gli obiettivi che ti poni da qui in avanti? Sì, ringrazio il mister, il club e la società per avermi fatto fare questo salto e questa grande crescita. E niente, prendo tutto quello che viene giorno dopo giorno, come ho detto vivo giornalmente e ciò che posso apprendere lo prendo e lo metto nella mia sacca e lo porterò con me. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.